Un capannolo industriale in fiamme per un incendio che i vigili del fuoco di Fano e Senigalli hanno cercato di circoscrivere. Le fiamme si sono sviluppate in un'azienda che allestisce imbarcazioni in via dell'artigianato a Ponte Rio di Monterado, a cavallo con la provincia di Pesaro. Nessun ferito, anche se le operazioni di spegnimento sono state rese difficili dal fumo che si è sprigionato e che ha avvolto la struttura. Una colonna nera era visibile a chilometri di distanza, ancora ad accertare le cause del ruogo sul posto anche i carabinieri e il 118.